Di Maia e Salvini assicurano, non c'è l'aumento dell'IVA, la protesta dei bus paralizza Roma, Putin rischio di una guerra nucleare. Bene avere evitato la procedura di infrazione, ma l'Europa deve cambiare. E' la linea del governo, il giorno dopo lo stop di Bruxelles, alle procedure per il debito italiano, con l'intesa sulla manovra raggiunta. E' l'aumento dell'IVA, Di Maio e Salvini rassicurano, nessun aumento dell'IVA quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni. Protesta dei bus turistici a Piazza Venezia, Roma, traffico bloccato in tutta l'area del centro della città. Agitazione indetta contro il nuovo regolamento del Comune di Roma, che prevede a partire dal 2019 una zona off-limits all'interno del centro della città e costi maggiori per gli ingressi autorizzati. Inaccettabile che Roma sia tenuta sotto scacco, dice la sindaca Raggi. Durissimo il Codacons sanzioni ai responsabili delle proteste. Vladimir Putin, dalla conferenza stampa di fine anno, avverte che c'è il rischio di una guerra nucleare perché il sistema di deterrenza internazionale sta collassando. Le armi della Russia, afferma, servono a mantenere la parità strategica e se arriveranno i missili in Europa, poi l'Occidente non squittisca, se poi noi reagiremo. Tragedia a Roma. Una donna si è lanciata nel Tevere ed è stata ritrovata morta qualche ora dopo dai sommozzatori dei vigili del fuoco sotto Ponte Marconi. Al momento non si hanno notizie dei due figli neonati per i quali proseguono ancora le ricerche. La rotta seguita dai migranti nel Mediterraneo occidentale non si ferma e purtroppo continua a fare vittime. 12 persone sono morte nel mare di El Boran, a largo delle coste spagnole. Altre 12 sono disperse. I loro corpi sono stati trovati dal salvamento marittimo, l'organizzazione statale di soccorso. Secondo testimonianze, la barca era partita dalle coste del Marocco. E questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adncronos.com Arrivederci dalla redazione web.